Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Maneggia la pistola e parte un colpo Operata al torrette di Ancona la donna ferita dal marito nella loro casa a Marotta Il comandante dei carabinieri di Fano, Alfonso Falcucci, invita i cittadini a fare attenzione Non ci si inventa, difensori fai da te E ancora caccia ai banditi che hanno rapinato un imprenditore a Cucurano di Fano Il sindaco Seri assicura Faremo il possibile per installare le telecamere Il Partito Democratico propone di dividere le marche Le critiche del consigliere regionale Carloni Che mostra che fine farà la provincia di Pesaro e Urbino Dal Maioventus Fano pareggia con il Chieti E lascia la vetta alla San Benedettese Granata al terzo posto Superati dal San Nicolò Clamoroso nel dopo partita Il capitano dell'Alma attacca il telecronista Sergio Catalani di Fano TV La più cordiale buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo il telegiornale con la tragedia sfiorata sabato scorso a Marotta di Bondolfo Dove un uomo ha sparato in modo accidentale a sua moglie Mentre stava armando una pistola Per paura di possibili incursioni dei ladri La donna è stata operata ma resta in prognosi riservata Vediamo tutti i particolari di questa vicenda nel servizio di Simone Zonghetti Migliorano le condizioni di Elena Rocchetti La donna di 59 anni ferita da un colpo di pistola Sparato accidentalmente dal marito sabato scorso Nella loro abitazione in via Miraglio Cappellini a Marotta La signora ha subito un delicato intervento chirurgico In cui i medici dell'ospedale regionale Torretti di Ancona Hanno dovuto asportare la milza Resta quindi ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata Ma non è in pericolo di vita Le lesioni provocate dal proiettile infatti per fortuna Non hanno pregiudicato il funzionamento degli organi vitali Ancora sotto shock invece è il marito Sauro Battisti, 64enne Titolare del camping a piano di Ponte Sasso Che poco dopo mezzogiorno stava pulendo la sua beretta Regolarmente detenuta per portarla al piano superiore Visti i numerosi fatti di cronaca Riportati dai medi e dalla stampa Pensava che tener pronte le armi Potesse essere una garanzia in più Contro possibili incursioni dei malviventi Una decisione che avrebbe potuto trasformare Un sabato mattina in una tragedia Battisti ha premuto il grilletto dell'arma Colpendo sua moglie La quale stava mostrando come si utilizzava la pistola Sono seguiti attimi di panico Durante i quali l'uomo l'ha adagiata sul divano E ha chiamato il 118 Che è arrivato poco dopo Insieme all'elimbulanza ad Ancona La donna che è sempre rimasta cosciente Ha potuto spiegare personalmente quanto accaduto ai carabinieri La dinamica è stata ricostruita dai militari della compagnia di Fano Sotto il comando di Alfonso Falcucci Che oggi ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza Non ci si inventa, difensore fai da te Ha detto, perché proprio questi potrebbero essere gli effetti collaterali Con il timore e la preoccupazione di volersi difendere dai ladri e dai malfattori C'è il rischio involontario di fare del male a qualcuno Soprattutto se chi come Battisti non è un esperto di armi e ha poca dimestichezza Ora il 64enne è indagato per lesioni colpose E rimaniamo sulla cronaca I carabinieri continuano a indagare sui tre banditi Che venerdì scorso hanno rapinato una villa a Cucurano di Fano Ancora nessuna traccia dei malviventi Che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi Hanno rapinato Massimo Iacucci Un imprenditore di 58 anni Che è stato svegliato di soprassalto Da alcuni rumori che provenivano Da una stanza adibita d'ufficio Erano le 2.45 quando tre banditi col volto coperto da passamontagna Hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Cucurano di Fano Intimando l'uomo con una pistola e la torcia puntata in faccia Di non opporre resistenza e di consegnargli tutti gli oggetti di valore tenuti in casa Nonostante gli attimi di paura vissuti dal 58enne È riuscito a mantenere la calma E con estrema lucidità ha consegnato i soldi e i gioielli custoditi in cassaforte Ora proseguono le indagini dei carabinieri di Fano Per cercare i responsabili ma sono pochi Gli elementi investigativi a disposizione dei militari Le uniche tracce come spiega il comandante Falcucci Sono l'Opel Corsa robata a Cucurano il giorno prima E fermata per un controllo al casello della 14 intorno alle 3.40 Ma all'alta della polizia i tre occupanti si sono dati alla fuga Dileguandosi nei campi, nell'abitacolo Poi sono stati ritrovati arnesi da scasso ed una collanina Non riconosciuta però da Massimo Iacucci Stiamo seguendo tutte le ipotesi, ha confermato il capitano Ma non crediamo che queste persone possano essere le stesse che hanno rapinato l'imprenditore Perché di solito i malviventi non scappano un'ora dopo Quando ormai la città è piena di posti di blocco delle forze dell'ordine Che per di più in questi casi collaborano in modo congiunto I tre banditi potrebbero invece aver utilizzato una Rover 75 Rubata poco prima in via del ponte Ma la denuncia di furto è stata presentata solo dopo diverse ore E questo ritardo non ha permesso di fare ricerche tempestive subito dopo la rapina Inoltre, dalla testimonianza della vittima Risulta che i tre banditi avessero sui 33 o 35 anni Che fossero alti circa 1,70 m E che uno avesse un accento anconetano Mentre un altro nordafricano Il terzo invece pare non avesse parlato Sull'argomento oggi è intervenuto anche Alessandro Sandroni Di Fratelli d'Italia, Alianza Nazionale Che ha ricordato come il partito lo avesse annunciato a gran voce Già un anno fa del bisogno di maggior sicurezza e controllo Purtroppo però ad oggi non c'è stata nessuna risposta Da parte di questa amministrazione, lamenta Sandroni Evidentemente erano più impegnati nelle vicende interne Per candidature alle regionali prima E posti e ruoli interni al comune poi D'altra parte invece il sindaco Massimo Seri Assicura che stanno lavorando su questo tema Tant'è che ci sono stati diversi incontri e confronti Sia col prefetto Luigi Pizzi Che con le forze dell'ordine locali Ogni anno in base alle disponibilità economiche Verranno installate le telecamere In posti diversi della città Ribadito Seri Ricordando le quattro posizionate di recente Alla stazione ferroviaria di Fano E perfettamente funzionanti Ed ora le fusioni dei comuni È stata ufficializzata E alla data del referendum Sulle fusioni dei quattro comuni Della provincia di Pesero e Urbino Il decreto della Regione Marche Firmato dal Presidente Luca Ceriscioli Stabilisce che il 13 dicembre Dalle ore 7 alle ore 23 Avrà la consultazione popolare Per la fusione del comune di Monbaroccio In quello di Pesero E del comune di Tavoleto In quello di Urbino Rimaniamo con la politica Perché il consigliere regionale Mirko Carloni Dice che c'è la possibilità Che la provincia di Pesero e Urbino Venga assorbita Dalle miglia romagna Sentiamo che cosa ci ha dichiarato I nostri microfoni La provincia di Pesero e Urbino Potrebbe essere assorbita Dalla nuova miglia romagna Mentre il resto del territorio marchigiano Incorporato dentro una nuova regione adriatica Comprendente Abruzzo E provincia di Rieti Questa ipotesi è inaccettabile È preoccupato il consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni Che interviene sulla riforma istituzionale Chiedendo al presidente Luca Ceriscioli Di discuterne con l'assemblea legislativa E di essere trasparente sul tema Che riguarda il futuro dei marchigiani Intanto ci sono due proposte di legge Di due parlamentari del PD Depositate già ad aprile di questo anno E che chiedono l'accorpamento In 12 regioni Delle attuali 20 regioni E soprattutto chiedono Che il centro Italia formi un'unica regione Cioè Toscana, Umbria e Marche Con un fatto Che secondo me è molto grave Che in questa proposta di legge Depositata appunto dai senatori Dei parlamentari, dei deputati del PD C'è che la provincia di Pesero-Urbino Compresa Fano Venga staccata dalla regione Marche E venga accorpata all'Emilia-Romagna Diventando il sud dell'Emilia-Romagna Io ritengo che questa proposta Vada assolutamente smentita Da un voto chiaro in consiglio regionale E quindi per questo proposito Ho depositato una mozione Chiedendo ai consiglieri regionali In particolar modo a Ceriscioli Di chiarire qual è la sua posizione Perché se il suo partito a Roma Propone di smembrare le Marche Bisogna che il consiglio regionale Che è competente in materia Decida che cosa fare Soprattutto perché Già oggi le Marche sono Abbastanza influenti Rispetto alle dinamiche strategiche nazionali Se noi andiamo con la Toscana E con l'Umbria E una parte di questa regione Va con l'Emilia-Romagna Veramente non rimane più niente Di quella capacità Almeno di autodeterminazione Del nostro territorio E diventeremo sempre più marginali Perdendo anche quel poco Di sovranità e di autonomia Che avevamo E i consiglieri 5 Stelle Contestano le proroghe Ai dirigenti fanesi Con l'obiettivo di ridurli Hanno presentato Un'interrogazione Ma non escludono Di rivolgersi Alla Corte dei Conti E alla Procura Sentiamo Basta proroga I dirigenti a contratto Lo chiedono i consiglieri comunali Del Movimento 5 Stelle Roberta Ansuini Ada Romiccioli E Marta Ruggeri I grillini ritengono Che il numero Dei dirigenti A tempo determinato Vada ridotto all'osso Non lo pensiamo Solo noi Dicono Ma lo prescrive E anche la legge Il testo unico Degli enti locali Infatti Da giugno dello scorso anno Obbliga a limitare La quota di dirigenti A contratto Sotto il 30% Della dotazione organica A Fano Attualmente ci sono 8 dirigenti Di cui 4 a tempo indeterminato E 4 a contratto Questi ultimi sono Adriano Giangolini Responsabile dell'ufficio urbanistica E dei lavori pubblici Gabriele Fossi Responsabile dei servizi Territoriali e ambientali Daniela Mantoni Ragioniere capo Finanza e patrimonio E Giorgio Fuligno Comandante Della polizia municipale Ma secondo la legge I dirigenti A tempo determinato In servizio Dovrebbero essere Al massimo due Sono un po' Un'anomalia Nel senso che Dare a un dirigente Che dovrebbe avere Un'autonomia E una libertà Diciamo Di operazioni Un ruolo precario Che quindi potrebbe essere Soggetto A essere Diciamo Ostaggio Della politica Non è sicuramente L'ideale Questa situazione Sarebbe stata ereditata Dalla giunta precedente Il sindaco Al cambio di mandato Ha scelto di prorogare I contratti Fino alla loro Durata triennale Questo secondo noi Era già discutibile Allora Perché la legge Il testo unico Gli antilocali Dice che I contratti A tempo determinato Dirigenziali Decadono con il sindaco Quindi secondo noi Sarebbero decaduti Nell'ultimo anno Però Sono stati Ulteriormente Prorogati Alcuni di questi Contratti Che quindi Sono già nel loro Quarto anno Quindi qui è sicura L'irregolarità Noi pensiamo Noi pensiamo che Il numero di dirigenti Vada in generale Ridotto E sicuramente Quello di dirigenti A tempo determinato Che appunto Non possono garantire Quell'autonomia Dalla politica Che invece è necessaria Dentro la macchina Comunale Negli ultimi 15 mesi Prosegue Ansuini Il comune Avrebbe avuto Almeno due dirigenti Che non poteva Permettersi E gli incarichi Sarebbero stati dati Senza una selezione Per avere risposte Dal primo cittadino E per far chiarezza Sulla vicenda I grillini Hanno presentato Un'interrogazione Ma non escludono Di rivolgersi Sia alla Corte Dei Conti Che alla Procura C'è il rischio Diciamo Di problemi Amministrativi Gravi Che potrebbero Condurre A ipotesi Di danni erariali O ipotesi Di abuso D'ufficio E nel centro Diurno Per l'Alzheimer In strada Comunale San Michele A Fano E' stato inaugurato Oggi pomeriggio Il centro Di auto Mutuo Aiuto Margherita Che si pone Come spazio Umano Di ascolto Di incontro E di accoglienza Tra territorio E le famiglie Dei malati Di Alzheimer Che vengono Messe a dura Prova Sotto l'aspetto Economico Sociale Psicologico Emotivo Ed organizzativo In contemporanea Con l'inaugurazione Nella galleria D'arte Permanente Allestita Sempre al centro Diurno Si è svolto Il vernissage Della mostra D'arte Che presenta Le realizzazioni Nate dall'incontro Tra gli ospiti Del centro E gli studenti Del liceo artistico Apolloni Di Fano E domenica scorsa Alle ore 18 Presso la comunità Di San Cesore Ho la presenza Del vescovo Armando Trasarti E delle autorità Cittadine Taglio del nastro Per casa Bethlehem La casa Ex asilo Poi acli E casa Del catechismo Che col passare Del tempo Necessitava Di profonde Ristrutturazioni Con l'inaugurazione Di domenica Si è realizzato Un sogno Di una piccola comunità Di disporre Di locali moderni Adeguati alle esigenze Di famiglie Di giovani E di bambini Per momenti Di catechesi E di dialogo Un momento di grande gioia Per tutti Che coincide Con l'inizio Del nuovo anno Pastorale Della parrocchia E siamo agli eventi Pesaro Ospita fino al 31 Ottobre prossimo A Palazzo Gradari L'anteprima nazionale Della mostra personale Di Carlo Tedeschi Già artista Per la pace Nel 1991 E premio Borsellino Per la pace Nel 2009 L'obiettivo della mostra Che sarà itinerante E toccherà città italiane E straniere E' proprio quello Di stimolare Una riflessione Profonda Sulla pace E prevede Il coinvolgimento Delle scuole Del territorio Che posizioneranno Una lettera Sul tema In teca In plexiglass Le lettere Saranno poi Raccolte In un volume Che porterà Il titolo Della città Che la mostra Avrà toccato E' un altro evento Diversamente Importante Ma molto gustoso E' il taglio del nastro Che ha avuto Ieri sera Alla fiera nazionale Del tartufo bianco Pregiato Di Acqualagna No, non è Ieri sera La rifaccio E' un altro avvenimento Però dal sapore Più gustoso E' avvenuto Con il taglio del nastro Ieri Per la fiera nazionale Del tartufo bianco Pregiato Di Acqualagna Che ha raggiunto Il traguardo Della cinquantesima edizione Il maestro Della cucina italiana Gualtiero Marchesi Chef pluristellato E' stato omaggiato Dal sindaco Andea Pierotti Della Ruscella d'Oro Presenti all'evento Anche la senatrice Camilla Fabri E il presidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Che domenica 15 novembre Sarà chef Per un giorno Alle prese Con una ricetta Al tartufo Di Acqualagna E al giudizio Dei suoi commensali La fiera Proseguirà Anche il prossimo Fine settimana Ed ora Vi facciamo vedere Una foto Inviata da un nostro Reporter di strada Nella giornata Di ieri Il conducente Di quest'auto Ha perso Il controllo Del mezzo Finendo Contro un palo Dell'illuminazione Pubblica E' accaduto Intorno alle ore 18.30 In via 4 novembre A Fano Dove sono intervenuti I vigili del fuoco E il personale Di Aset Per ripristinare Il danno Nessuna conseguenza Invece Per il conducente Ed è andata All'Affanese Gianmarco Ceresani Di 27 anni La seconda edizione Di Fano Corre La gara podistica Che ha attraversato Le strade Del centro storico Intitolata A Lamberto Tonelli Campione Nello sport E nella vita Alla quale Hanno partecipato Oltre 700 persone Provenienti Anche dalla Limitrofa Romagna E Umbria Ceresani Il podista Di casa Della polisportiva Fano Corre Organizzatrice Della gara Ha tagliato Il traguardo In 34 minuti Al termine Dei 10 chilometri Di percorso Per le donne La palma d'oro È andata Alla pesarese Barbara Cimarrusti Con un tempo Di 40 minuti Una festa Anche per i non Agonisti Bambini E famiglie Che chi Correndo E chi Camminando Hanno percorso Un solo Giro Del circuito Che faceva parte Appunto Della gara Ed ora Guardiamo Gli highlights Della partita Dell'Alma Juventus Fano Scendono in campo Le squadre Di Alma Juventus Fano In maglia bianca E Chieti In maglia nero verde Buon pomeriggio Da Sergio Catalani Che vi parla Dallo stadio Raffaele Mancini Di Fano Intanto c'è Suriano in aria Il Chieti Pericoloso Ginestra Che toglie davvero La palla Dal Angolino Borrelli Al limite Borrelli Borrelli Mette nel mezzo Borrelli Portiere che va a vuoto E poi Vitale Che si salva Fa tutto da solo Suriano 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 Ginestra Ripiede L'intervento Della brasiliano Che ha Il tiro Attenzione Ginestra In due tempi Blocca il pallone Palla sul destro Vediamo Chiacchiarelli Poi la conclusione C'è il portiere Che Respinge Dos Santos In pienale di rigore Il tocco Attenzione L'apparatissima Di Ginestra Palla verso Di Nardo Con Dos Santos Che è libero C'è Ginestra In qualche modo Che tocca la palla Marconi su Di Nardo Che prova A sgusciare Il tocco Verso Varone 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 Ginestra Chiacchiarelli Il tocco Verso Civilla 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 Il tiro rimpallato E la palla Che arriva in acqua Vediamo Di Nardo Il tiro di Di Nardo Attenzione Massimo Il tiro Palla a lato Ancora Il corner Vediamo Chiacchiarelli C'è Gucci Che colpisce di testa Direttore di gara Che fischia La fine Va bene così Al Fano Finisce a 0-0 Con un gran Chieti In studio Per il commento Della partita Per risultati Classifiche E pagelle Abbiamo Sergio Catalani Allora Sergio A te la parola Grazie Lino Quindi torna a fare punti L'Alma Juventus Fano Che ha il cospetto Di una grande Il Chieti Visto ieri Al Mancini Si è dimostrato Veramente Un'ottima squadra Si prende un brodino E dopo La scialba Prestazione di Iesi Torna diciamo A fare punti Un 1-0-0 Che sta comunque Stretto alla compagina Nero-Verde Che avrebbe meritato Sicuramente Qualcosina in più Alma che deve ringraziare Il portiere Ginestra Autore di almeno tre Interventi prodigiosi E ora vediamo i risultati E la classifica con il prossimo turno Della nonna giornata Quella che si è giocata ieri Alma Juventus Fano Chieti 0-0 Amiternina Recanatese 2-1 Campobasso Agnonese 3-0 Folgore Veregra Jesina 1-1 Giulianova San Nicolò 0-3 Isernia Samb 0-2 Matelica Avezzano 2-1 Monticelli Castelfidardo 1-1 Vispesaro Fermana 2-1 Per una classifica Che vede in vetta Da sola La Samb Di Mister Palladini A 19 punti Seguile San Nicolò Prossimo avversario Granata A 18 Fano 17 In terza posizione Matelica 16 Chieti Monticelli Avezzano 14 Campobasso 13 Folgore Veregra 12 Insieme a Lisernia Castelfidardo Ere Canatese 11 Fermana 10 Jesina 9 Agnonese Evispesaro 8 Chiudono la classifica La Mitelnina E il Giulianova Prossima partita Molto ma molto Delicata Al Bonolis Di Piano Daccio Campo In erba sintetica A Teramo Contro Il San Nicolò Un'altra squadra Che insieme al Chieti Gode dei favori Del pronostico E ora Le pagelle Della partita Alma Juventus Fano Chieti Ginestra 8 Marconi 6 Bartolini 6 Lunardini 5 Nodari 7 May 7 Civilla 5 Favo 5,5 Gucci 5,5 Borrelli 6 Falsaperla 5 Lucciarini 6,5 Chiacchiarelli 6 Salvato Senza valutazione Mister Alessandrini 5,5 Arbitro Guarnieri Di Empoli 7,5 Sergio perché 5,5 Al mister Ma diciamo che il mister Che lui sa che io stimo Perché è il valore aggiunto E' stato e lo sarà Del Fano Non ci convince del tutto Per quanto riguarda i cambi E sul fatto che magari Ci sono giocatori in panchina Come Salvato Come Sassaroli Come Chiacchiarelli Anche Buongiorno Che potrebbero Diciamo essere inseriti E quindi Essere una valida alternativa A Civilla Gucci Borrelli Lunardini Che ai noi Giocano sempre E magari potrebbero Essere Diciamo Un po' Appannati In questo periodo Allora Facciamo un passo indietro Andiamo a Domenica 18 ottobre Perché non è piaciuta I giocatori del Fano La telecronaca Della partita Iesina Alma Juventus Fano Affidata appunto a Sergio Catalani Nella quale i Granata Sono usciti sconfitti Per due reti a zero Ieri pomeriggio Al termine dell'incontro Casalingo contro il Chieti Finito a reti inviolate La squadra Ha voluto Rimarcarlo Con forza Rilasciando Una dichiarazione Spontanea A fine gara E in sala stampa Si è presentato Il capitano Alex Nodari Che a nome dei compagni Si è rivolto Al telecronista Appunto Sergio Catalani Lamentandosi Del trattamento Verbale Subito durante la telecronaca Al pacifico Carotti Di Iesi Sentiamo Un estratto Di questa dichiarazione Rilasciata al macrofono Appunto di Sergio Catalani Sentiamo Io ho una roba Sentita Come ho sentito Dopo la partita Di Iesi A criticare In malo modo E a offendermi Perché mi hai offeso Io non so Io non so A te cosa ti ho fatto Non so cosa è Io ho sempre rispettato Tutti e tutti Ripeto Con i miei difetti Giocando bene Giocando male Ma quando uno Mi offende In quella maniera lì Io non ci sto Hai espresso parole Al limite del ridicolo Imbarazzante Hai detto di tutto e di più Io non sono venuto qui A farmi prendere In giro da te O da qualcun'altra persona Io sono qua A portare avanti Un obiettivo In modo equilibrato E giusto Insieme ai miei compagni I miei compagni Vanno rispettati Come vado rispettato io Se questo Non riesci a capire Perché ci hai offeso In una maniera Assurda E ripeto Assurda Da una persona Come te Che sinceramente Non ti conosco Benissimo Ma non pensavo Che arrivavi a fare Un discorso del genere Ricordiamo La dichiarazione Completa Di Alex Nodari La potrete ascoltare Nello spazio Interviste appunto A fine della partita Partita che trasmetteremo Al termine del telegiornale Come sempre Allora Sergio Visto che sei qui Insomma Come rispondi A questo attacco Verbale così forte Da parte del Capitano dell'Alma Ma intanto Ecco Nodari Ha risposto da solo Perché Dopo le brutte prestazioni Sciorinate con Iesina E Samb Ieri Ha giocato Con una grandissima gara E io non ho avuto problemi Anche nelle pagelle A rimarcarlo Insieme a me E al portiere Ginestra Con un po' Tutta la difesa Nodari È stato il migliore in campo Fatta eccezione Per qualche Rinvio Magari Non della Sua fama Ma comunque Si è guadagnato Il bel voto Diciamo Cercando di Sdramatizzare Conoscendo quanto Alex Nodari Tiene alla maglia Granata Ai tifosi E alla città Sicuramente Vediamo Una carica Positiva Un'energia positiva Che potrà fare Soltanto che Bene Ecco io Per me Finisce qui Naturalmente io Non sono Né arrabbiato Né offeso Con Alex Ci mancherebbe altro Anzi sono Sono pronto In qualsiasi momento A chiarire E parlare Con Diciamo lui E con Anche altri Gli altri Giocatori C'è quindi Soltanto Tanta Rivalsa Perché Siamo tutti convinti Io per primo Che l'Alma È una grandissima squadra E Da queste difficoltà Potrà soltanto Che rialzarsi Tutti ce lo Auguriamo Un'unica cosa La vorrei dire Io sono spesso Diciamo Un po' Nel Mi rino anche Un po' Della critica Nell'occhio del ciclone Ma Essendo comunque Teleconista E comunque Collaborando con L'imitante Fano TV Ma soprattutto Essendo tifoso Molte volte Certi giudizi Vengono un po' Enfatizzati Ma è soltanto L'amore Il grande amore Che nutro Verso questa Maglia Verso la maglia Granata Che mi porta Magari a Essere a volte Eccessivo Ma questo è Il mio modo Di fare Teleconismo Perché lo scorso anno Non ci serve A dimenticare Insomma Delle emozioni Che vi ho Che mi avete anche Trasmesso Voi Giocatori Pubblico Ambiente Con lo Stavodinario Campionato Culminato Con L'eliminazione Ai playoff Con il Monopoli Quest'anno si vuole Far di meglio E quindi ecco Mi si perdono Ma anche magari A volte Certi Eccessi Ma sono Soltanto Dovuti Al grande amore Che nutro Per questa Maglia Bene Grazie Sergio Per le tue parole Allora Ricordiamo Ai nostri Telespettatori Che mercoledì Appunto L'appuntamento Con Primo Cittadino Sarà ospite Nei nostri studi Il vice sindaco Di Fossombrone Michele Chiarabilli I riferimenti Telefonici Sono naturalmente Sempre gli stessi Quelli che ormai Conoscete Abitualmente Per intervenire In diretta Lo 0721 86 14 433 Oppure potete Comunicare Con la redazione Oppure con Noi In studio Attraverso SMS O Whatsapp Al 338 4968 250 E per l'informazione È tutto questa sera O che la notizia Tornerà naturalmente Domani sera Come sempre Puntualmente Alle 20 e 30 Grazie Per essere stati In nostra compagnia E vi lascio Alle immagini Della partita dell'anno Buona serata a tutti voi Sì 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 Sì